Solo stamattina sono potuti rientrare nelle loro camere i 700 turisti dell'hotel Costa Verde di Cefalù. Erano stati evacuati ieri sera a causa del ruogo che stava minacciando la struttura e provocato ingenti danni al territorio circostante. Questa mattina gli ospiti hanno anche potuto fare colazione in albergo. Fiamme che da ieri sono tornate a devastare il territorio, lambendo anche le vie di comunicazione, obbligando le autorità a chiudere la venti Palermo Messina. Fiamme che sono costate la vita di Maria David, 42 anni, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dal fuoco in un appezzamento di terreno di loro proprietà in zona Sala Verde a Mazza Forno, vicino a Cefalù. La donna è stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada. La signora David è una delle due vittime di ieri. Un uomo è morto anche a trappeto durante l'evacuazione di alcune abitazioni. Forse la vittima è stata presa dal panico e potrebbe aver avuto un malore. Il corpo è stato ritrovato all'esterno della casa e il medico legale è intervenuto con i carabinieri. Non ha rinvenuto bruciature. Le fiamme ieri sono anche tornate ad interessare la discarica di Bellolampo, generando timori per possibili esalazioni tossiche da parte della popolazione, ma ci sono state rassicurazioni in merito. Nella fase più concitata dell'incendio è stato necessario evacuare l'edificio 18 del campus universitario in Viale delle Scienze, al confine con via Ernesto Basile, zona interessata da incendi già da ore. Le fiamme si erano avvicinate all'edificio che ospita la Facoltà di Chimica e Fisica ed è stato dato l'ordine a studenti e professori di abbandonare immediatamente il luogo. Giornata dunque difficilissima, quella di ieri, con il vento di Scirocco che ha alimentato le fiamme, che hanno interessato anche i territori comunali di Contessa e Entellina e in provincia di Agrigento quelli di Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, in zona Arancio, Lucca, Sicula e Siculiana. Fiamme anche vicino alla Palermo Sciacca, all'altezza del Bivio Misilbesi. Il forte fumo ha rallentato il traffico, per fortuna non ci sono stati incidenti.